Come è noto venerdì scorso la Commissione europea ha dato il via libera con un'approvazione alle proposte che il Governo ha messo in campo sia relativamente all'approvazione della terza rata con alcune modifiche che relativamente alle modifiche proposte della quarta rata. Un lavoro molto complesso, molto articolato, un lavoro che ha portato e ne sono molto soddisfatto ad un apprezzamento anche pubblico da parte di tutti gli esponenti della Commissione europea il che testimonia in modo molto chiaro che il coordinamento, il confronto costante che abbiamo messo in campo con la Commissione europea non solo stia producendo dei risultati positivi ma sia la strada sulla quale il Governo punta a risolvere definitivamente le questioni principali che riguardano la fase di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Prendete atto delle difficoltà che avete. Noi abbiamo sempre dato disponibilità per una missione che non appartiene a questo Governo né a quelli precedenti ma appartiene a tutto il sistema Paese. Noi tifiamo e tiferemo sempre per l'Italia e per l'Europa. Vogliamo metterci alla stanga, come dice il Presidente Mattarella. A voi la possibilità di mettervi finalmente in ascolto con umiltà delle preoccupazioni dei sindaci, delle regioni, delle categorie economiche, delle parti sociali e delle opposizioni. Lavoriamo insieme ed evitiamo questi tagli per non perdere questa occasione storica e irripetibile per il nostro Paese. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo una notizia. Siete finalmente coerenti su qualcosa? Finora avete disatteso le promesse su tutto. Blocchi navali, l'eliminazione dell'accise sulle benzina, il super bonus. Invece no. Devo dire che sul PNRR siete coerenti. In campagna elettorale avete messo le mani avanti dicendo che sarebbero stati un po' troppi quei soldi da spendere. Ed eccoci qui. A distanza di pochi mesi avete già tagliato. E vede Ministro, il problema qui non è il PNRR. Il problema qui è la vostra più totale incapacità di gestire un serio piano di investimenti e sviluppo. Perché questo dibattito. Io vorrei aggiungere una sottolineatura di carattere politico. La concentro in una frase che sarà un po' forte ma poi lo giustificherò. Alla fine questo PNRR è stato anche, o è stato utilizzato anche, ma è stato anche un gigantesco tentativo di avvelenare i pozzi da parte di un governo di sinistra che sapeva che se ne stava andando e che ha creato una burocrazia parallela e una struttura, un insieme, un blueprint talmente complesso che non poteva che mettere in difficoltà il governo successivo. Il primo dato triste che mi sento di riferire è che nel comune di Lissone si è verificato purtroppo il decesso di una donna che camminava a piedi e in località di Corteno Golci una ragazza mentre dormiva in una tenda in un campo scout è stata raggiunta dalla caduta degli alberi. il nostro pensiero va a queste vittime e a quelle che si sono registrate che si sono registrate che si sono registrate nelle regioni del Sud altre tre vittime. E credo, lo dico senza alcuna polemica, che se è sacrosanta la battaglia per la libertà che tutti insieme dobbiamo fare, è anche vero, senza entrare nelle polemiche, volo di Stato, non volo di Stato, che Patrick Zacchi ha un debito di riconoscenza nei confronti di Giorgia Meloni. Grazie a tutti i nostri spettatori